Ciao, sono Giacomo Sambienti, classe 90, Raymaker, sono la prima esperienza qua a Piacenza e direi che sono molto soddisfatto di far parte di questo gruppo e spero che la stagione si concluda con i massimi risultati. Vi aspetto alle partite, non mancate, siamo un grande gruppo e cerchiamo di leggerle tutte.